Le persone normali sottovalutano quello che possono fare in dieci anni, state ben attenti, sottovalutano quello che possono fare in dieci anni e sopravvalutano quello che possono fare in un anno. Che cosa vuol dire? Che tu esci da qui, in sei mesi non sei riuscito a guadagnare un milione di euro, adesso ovviamente sto esagerando, dici no no basta, torno nella mia ruota del criceto, nella mia lavatrice. Mentre qualcuno uscirà di qui, non ci riesce dopo sei mesi, ci riesce dopo otto e fra dieci anni lo trovi che da essere venuto qui aveva un problema, fra dieci anni che fanno qui, ok? E dieci anni volano. Non vi sto dicendo che qui voi guadagnerete fra dieci anni, vi sto dicendo che se volete dei sogni, se volete realizzare dei desideri grandi dovete metterli a lungo termine e delle piccole scelte che farete in questi giorni, ma nella vostra vita normalmente, vi porteranno ogni volta verso una direzione. E quindi dobbiamo fare in modo di pianificare il nostro futuro perché è il posto dove andremo a vivere.